Un milione di euro per il Ressauro della Pieve di Santa Maria a tendere la mano alla Diocesi per riportare al suo antico splendore una delle chiese più amate della città, Patrizio Bertelli, patron di Prada. Davvero un finanziamento importante che consente di prospettare l'inizio dei lavori nella Pieve, noi speriamo, durante quest'anno e è l'occasione per esprimere al signor Bertelli il mio personale e della Diocesi. Ringraziamento per questa attenzione che è un segnale di vicinanza, di sensibilità verso il mondo della cultura, anzitutto, dell'arte e poi anche verso la realtà della Diocesi e della città. Patrizio Bertelli, che proprio nella sua città Natale aveva già salvato alcuni locali storici, adesso ha deciso di finanziare l'intervento della chiesa dove ha ricevuto il battesimo. La chiesa ha il più ampio patrimonio artistico del nostro territorio e noi abbiamo il dovere di conservarla. La chiesa nel corso degli anni aveva subito danneggiamenti causati dal meteo e dall'usura del tempo. Lo scorso giugno il crollo di una delle colonne della facciata, a seguito del quale il Ministero aveva già stanziato 1.100.000 euro. Una colonna che tra l'altro è una delle insospettate, si è spaccata a metà, metà è rimasta su, grazie a Dio lasciando intatta la struttura e metà, ma sono chili e chili e chili di pietra da quell'altezza, che è caduta davanti alla porta d'ingresso, fortemente alle 4 della notte. Avevamo un grosso rischio. Per ora con l'impalcatura siamo sicuri, speriamo presto, senza impalcatura, nella bellezza e nella pienezza della sicurezza. Adesso il budget è quasi raddoppiato, ma serviranno comunque ulteriori fondi per completare l'importante opera di consolidamento e recupero. Per cui è una porta aperta perché chi potrà possa portare anche il proprio contributo.